Dicono che siano cinque le fasi del morto. Beh, mi piacerebbe aggiungerne un'altra. Vendetta. Hai quel luccichio negli occhi. Quale luccichio? Voglio fare arte. E voglio combinar guai. Il personaggio è molto divertente e molto intoxicante. Quando mettiamo questo bianco bianco e bianco e questo meraviglioso make-up e questi costumi unico, ti senti come Cruella de Vil. I villani sono sempre i divertenti. Mi sta tornando in mente che un lato di te è un guai esterno. No.